A partire dal prossimo sabato 13 gennaio saranno aperte le piste Valle Inferno 1 e Valle Inferno a Lorica. Questa notizia è stata comunicata da Ferrovie della Calabria attraverso un comunicato in cui si sottolinea che le abbondanti nevicate degli ultimi giorni hanno permesso agli operatori di garantire la sicurezza sulle piste Valle Inferno. Tuttavia, per le piste Rientro e Cavaliere, la quantità di neve attuale non è ancora sufficiente. Il comunicato aggiunge che non appena le condizioni lo permetteranno, anche le altre piste verranno preparate. Le comunicazioni riguardanti lo stato d'uso delle piste di Lorica saranno prontamente condivise sulla pagina ufficiale Facebook Impianti Lorica Ferrovie della Calabria.